Fedez è l'uomo del web, Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza diventato famoso per le sue espressioni durante il concerto Love Me. Una coppia improbabile ma che ha fatto scattare il sorriso sopra il volto di chi ha visto prima la storia di Fedez, e poi le varie ricondivisioni sui social. Ieri sera Fedez era al concerto di Achille Lauro e Monzani era presente, i due non potevano non farsi una foto insieme così ecco che si è creata la magia. Monzani durante Love Me era stato ripreso da un fan mentre si esibiva il 3 per Pachi, e il risultato è stato che Ivano è diventato una star del web a tutto merito delle sue espressioni basite. Fedez, che come il resto d'Italia, ha visto il volto di Ivano rimbalzare ovunque sui social, e non poteva perdere l'occasione di scattarci una foto, o meglio registrare un piccolo video con lui. Tanta roba questo è, sono le uniche parole di Monzani che si riescono a comprendere. Il web è letteralmente impazzito per i due insieme e sotto al post di Trash Italiano che ha ricondiviso la storia di Fedez e i commenti sono centinaia e centinaia, e continuano a moltiplicarsi. Neme of a year, è più famoso di Fedez, è Fedez che ha chiesto la foto a lui, l'Italia riparta da lui, il duo di cui non sapevamo di aver bisogno, ormai nito e indiscusso, questi sono solo alcuni dei commenti. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie. Grazie per aver guardato il video,